Ma guardi, le elezioni siciliane sono importanti ma hanno un carattere diciamo così locale. In più in Sicilia il candidato espresso dal centrodestra è molto spostato a destra, musumesci, persona stimabile, onesta ma insomma quasi nostalgico. Quindi non è che c'era un candidato di Forza Italia lì, ma il punto politico fondamentale a livello nazionale è quello che dicevo prima.